L'Italia ha una previsione di crescita dello 0,9% quest'anno, lo stesso ritmo del 2016 con un leggero aumento della crescita nel 2018 ad un 1,1%. L'economia è sostenuta da tassi di interesse reali bassi e da una forte domanda esterna, ma ci sono ancora debolezze strutturali che ostacolano una forte o più forte ripresa.